Sì ragazzi, come ogni sabato vado a ritirare ogni ruota il vestito di Barbie Questa volta è di Cuba Molto bello E adesso andiamo ad aprire Allora, prima di tutto troviamo Come ogni volta per chi non mi segue da tanto tempo Ne è incluso un appendino Un giornalino Dove ti spiega il vestito E il vestito dovrebbe venire così E ti spiega tutte le cose di Cuba Vedete? Poi Allora, prima di tutto dobbiamo buscare questa carta Ce n'è un'altra di carta E aprire un altro bellissimo vestito Allora, questo si mette praticamente nei capelli In questo modo, guardate Un secondo Si fa il fiocco in questo modo Ecco, questo lo mettiamo da parte Adesso apre il vestito Bene ragazzi, che dire di questo vestito? È un bianco così lucido bellissimo Sembra spagnolo ma in verità è di Cuba Vabbè Cuba e Spagna Non sono molto brava in geografia Perché devo ancora farla? Sì, no, devo ancora fare la Spagna Io ho avuto fare il guetta Ok, stavo dicendo Lasciamo perdere le mie strane parole Ed è fatto così Bianco perla E sull'appendino Questo coso rosso Che non so Eccolo Sembra più il nostro Praticamente lo torsiate in questo modo E fate un fiocco così Nel capelli della vostra Barbie Ed eccolo qua Deve per più venire Uguale il giornalino Se il video vi è piaciuto Come sempre lasciate un like E iscrivetevi Ciao, un bacione Ciao, un bacione